Il lungometraggio austriaco Oscar e Lilli, storia di due giovanissimi rifugiati ceceni, vince il premio Ciac Scuola Film Fest assegnato al 66esimo Taormina Film Fest durante la serata finale al Teatro Antico. Il riconoscimento è stato tributato da una giuria di 30 studenti provenienti dagli istituti messinesi Verona Trento e Mauro Lico e dell'istituto tecnico-tecnologico Leonardo da Vinci di Milazzo. Grande soddisfazione da parte del presidente del Ciac Scuola Sergio Bonomo per l'impegno e la capacità collaborativa dei giovani giurati nell'approvare un risultato concorde. Il premio è frutto di un accordo tra il concorso nazionale per la cinematografia scolastica e Videobank, società organizzatrice del Taofest.